Sono Stefano, ho 22 anni e vengo da Torino e mi sono appena brevettato in cursore dell'esercito italiano. Ho conosciuto l'esercito italiano durante le superiori, attraverso libri e soprattutto video e foto pubblicati sui social. In particolare ho da subito ammirato il nono reggimento d'assalto por Moschini e ne sono rimasto affascinato dal suo passato, ma soprattutto dal suo presente. Ho deciso quindi di arruolarmi nell'esercito come VFP1 e una volta giunto al RAV ho scoperto la possibilità di poter far domanda per accedere alle selezioni per il comparto delle forze speciali. Ho raccolto subito questa sfida. Sono riuscito a superare le selezioni ed iniziare il percorso per diventare un incursore dell'esercito. Il superamento del corso mi ha inoltre agevolato il passaggio a VFP4 tramite un concorso straordinario con posti riservati al personale e alle forze speciali. E grazie al brevetto da incursore transiterò un servizio permanente una volta terminati 4 anni. Il corso di specializzazione da incursore è un'esperienza unica, una prova che richiede il massimo impegno e la massima costanza e che insegna a conoscere meglio se stessi come uomini e come soldati. Ho imparato ad agire in ogni ambiente, dal cielo, nel mare, sulla terra. Oggi mi sono brevettato. Questo è quello che volevo essere. Questo è quello che sono. Un incursore dell'esercito italiano.